The New Stories. La tua informazione libera. L'uomo è stato allontanato dal ristorante perché il suo aspetto spaventava i clienti, secondo quanto riportato. Oliver soffre di neurofibromatosi di tipo 1, una rara malattia genetica che causa la crescita di tumori benigni sui nervi. Dopo che qualcuno si era lamentato del suo aspetto, il personale ha deciso di chiedergli di andarsene. È stato terribile, racconta Oliver, e in quel momento ammetto di averla presa davvero male. Nonostante l'episodio, ha scelto di non rivelare il nome del ristorante per evitare problemi, dichiarando che non cerca vendetta, ma spera di aumentare la consapevolezza sulla sua condizione. Oliver ha condiviso la sua esperienza alla BBC per sensibilizzare riguardo alla neurofibromatosi di tipo 1. Quel giorno, appena uscito dall'ospedale dopo una serie di trattamenti, aveva deciso di godersi un pasto fuori. Entrato nel ristorante, ha visto un cartello che indicava di pagare solo in contanti, così è uscito brevemente per prelevare denaro. Sono tornato per ordinare e mi hanno chiesto di chiedermene, dicendomi che stavo spaventando i clienti e che erano arrivate delle lamentele, spiega Oliver. Non c'era stato abbastanza tempo per ricevere lamentele mentre ero fuori, quindi è evidente che il problema fosse con il personale. Senza polemizzare, Oliver ha lasciato il locale, ma ha poi presentato un reclamo al ristorante. Non avendo ricevuto risposta, ha deciso di segnalare l'accaduto alla polizia. Nonostante la polizia abbia riconosciuto l'episodio come un'ingiustizia e un potenziale crimine d'odio, Oliver è stato informato che le possibilità di un'azione legale erano limitate. L'uomo ha sottolineato che non ha problemi a spiegare la sua condizione a chiunque ne sia curioso, aggiungendo che la reazione del personale probabilmente derivava dall'ignoranza. Forse pensavano che fosse qualcosa di contagioso. Grazie per la visione! Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante! Resta sempre aggiornato!